La seconda batteria Vai Maxi, vai Auri! E anche per voi Vai Maxi, vai Auri! Per la nostra regia è tempo di pago dovrei Per la nostra regia è tempo di pago Per la nostra regia è tempo di pago Per la nostra regia è tempo di pago Grazie a tutti.